Una delle sfide più calde della mobilità elettrica si gioca proprio lì, al centro del motore, il rotore. Continental ha presentato un sensore rivoluzionario che legge la temperatura esattamente dove serve, direttamente nel cuore del motore e non più a distanza, stimata via software. Il risultato sembra sorprendente, un piccolo componente ma un cambio di paradigma enorme. E no, non è solo un dettaglio tecnico per ingegneri. Questa tecnologia potrebbe cambiare il modo in cui progettiamo e costruiamo i veicoli elettrici di domani. Ma prima di continuare volevamo darvi anche il benvenuto in questa nuova puntata delle News Green della settimana. È il nostro appuntamento del lunedì sera dove discutiamo delle nuove tecnologie più assurde che stanno rivoluzionando il mondo della sostenibilità. Mi raccomando e iscrivetevi al canale Accendi della Campanella per non perdervi tutte queste notizie super importanti. Iniziamo! A Cumiana, Shell ha inaugurato un impianto fotovoltaico da 18 MW, capace di alimentare 7000 famiglie. L'installazione è composta da oltre 33.000 pannelli solari, cioè 33.000 pannelli solari montati su tracker monoassiali aumentando l'efficienza dell'impianto. Collegata alla rete nazionale contribuirà con circa 25 GWh all'anno riducendo di oltre 8.000 tonnellate le emissioni di CO2. Andiamo ora a Monte Lupone dove viene avviato un piano di mobilità green alimentato da energia fotovoltaica. Il progetto prevede la realizzazione di una comunità energetica locale con pannelli su edifici pubblici e privati. In parallelo vengono installate colonie di ricarica per veicoli elettrici e mezzi comunali full electric. Il sistema sarà gestito tramite una piattaforma intelligente che monitora consumi e produzioni in tempo reale. Ben fatto ragazzi! Ma se volete saperne di più sulle comunità energetiche, il 21 giugno 2025 si terrà l'E-Day 2025, quindi vi lasciamo il QR code qui a video per saperne di più. Sicuramente qualcuno del nostro team ci andrà, chissà, magari ci vado anche io, mi raccomando ragazzi fateci un giro perché è veramente importante. Veniamo ora al 5 giugno, quindi torniamo nel passato di una settimana, perché il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'ambiente 2025. Mette sotto i riflettori chiaramente il nemico più pervasivo del pianeta, la plastica. Magari potremmo farci un video sulla plastica, il riciclo della plastica che praticamente non avviene. E fatecelo sapere qui sotto nei commenti se vi interessa. La giornata quest'anno è stata ospitata dalla Corea del Sud, che punta all'eliminazione completa della plastica entro il 2040. L'edizione 2025 arriva in un momento chiave, con i negoziati globali in corso per regolamentare l'intero ciclo di vita di questo materiale. La plastica è ormai parte del nostro paesaggio, spesso più visibile dei segnali stradali, ma solo una minima parte viene effettivamente riciclata. Il resto finisce nei mari, nei fiumi, nel suolo, insomma, lo sappiamo. Ma non basta gestire meglio i rifiuti, servono interventi a monte sulla produzione e un robusto rafforzamento dell'economia circolare. C'è l'urgenza di strumenti come la responsabilità estesa del produttore e l'introduzione di tariffe legate alla quantità di rifiuti generati. Intanto, al quartiere generale dell'ONU a New York, il simposo dell'UNEP metterà al centro soluzioni condivise concrete per uscire proprio da questa trappola che è la plastica. Perché è impossibile, cioè io ovunque mi giro, anche qui in studio, c'è plastica ovunque. E il più grande dilemma del nostro ecosistema è che la plastica, ad esempio, ma come tante altre cose, è un problema globale. E pensiamo sempre che cosa posso fare io, di mio, che effettivamente possa cambiare le cose. E il problema è che se, appunto, nessuno fa niente, le cose non cambiano. Tutti dovremmo cambiare, tutti dovremmo migliorare il nostro modo di fare riciclo e, insomma, avete capito. Voi, ad esempio, cosa fate per ridurre lo spreco di plastica nella vita di tutti i giorni? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ma andiamo avanti e voliamo a Roma, a Fiumicino, dove è entrato in funzione il più grande sistema di accumulo energetico d'Italia. 10 MWh di capacità realizzati con batterie di ex auto elettriche. L'impianto stabilizza la rete aeroportuale, accumulando energia rinnovabile da impianti solari e riducendo i picchi di domanda. Il sistema utilizza tecnologie di second life battery e software di energy management per garantire efficienza e sicurezza. Sicuramente questo è un grande esempio di riciclo. Andiamo avanti e parliamo di Ansaldo Energia e Killshane Energy, perché stanno collaborando per un nuovo impianto in Irlanda da 275 MW dedicato al bilanciamento della rete. Si tratta di un sistema di accumulo ibrido con batterie e turbine a gas a basso impatto ambientale, in grado di fornire energia con soli 30 secondi di delay. Il progetto si integra nella strategia irlandese per raggiungere l'80% di energia rinnovabile entro il 2030. A grado, il Festival Green Live unisce musica e sostenibilità con biciclette che producono energia per alimentare l'audio. Cioè, assurdo il mio sogno. Vabbè, io sto lì, mi bevo una bella birretta, tranquillo, in un bicchiere di carta. Giusto. O intanto pedalate. I partecipanti, infatti, pedalano su ciclette connessi a generatori da 200 W ciascuna, contribuendo in tempo reale all'alimentazione del palco. L'iniziativa ha coinvolto anche scuole e famiglie per sensibilizzare sui temi dell'energia alternativa in maniera ludica e coinvolgente. E poi ci perde anche un po' di peso. Magari. Potremmo essere una sfida. Però, fatemi le ciclette piccoline, così io vengo e... Veniamo ora al nostro carissimo amico dell'ambiente, Trump. Donald Trump. Perché pare che lui continuerà invece ad utilizzare le cannucce di plastica monouso. Bravo, Trump. Bravo. Così mi piaci. Così mi piaci. Mettiamo il turbo di nuovo alla corsa statunitense, anche sulle terre rare. Vai. Con un bell'ordine esecutivo che spinge l'esplorazione dei fondali del Pacifico. Perché sì, perché il mare già è messo benissimo. Quindi perché non andare lì e trivellare tutto? Veramente un'ottima idea. E ora veniamo alla notizia del giorno di cui vi accennavamo a inizio video. Continental ha svelato l'e-motor rotor temperature sensor. Primo sensore capace di leggere la temperatura direttamente sul rotore dei motori sincroni a magneti permanenti. Rimpiazzando le attuali stime software basate su dati dello statore e correnti di fase. Pensate che il passaggio dalla simulazione software alla lettura reale riduce l'errore da 15 a soli 3 gradi centigradi. In termini pratici servono meno terre rare per corazzare i magneti contro i picchi termici. E c'è spazio per spremere qualche cavallo in più del powertrain. Il sistema si compone di due moduli. Un mote wireless posizionato a pochi millimetri dal magnete e un trasduttore cablato all'inverter. I due dialogano e si alimentano tramite ultrasuoni o eliminando cavi interni e potenziali punti di guasto. Comunque questo sensore avrà sicuramente nel lungo termine un impatto positivo sulle nuove generazioni di motori. Ma anche sulla supply chain. Meno materiali critici e più sostenibilità. Che figata. Brava Continental. Ora andiamo in Umbria. Nella giornata mondiale dell'ambiente è stata celebrata una campagna promossa da Despar per la riduzione dell'impatto ambientale. Sono stati distribuiti oltre 10.000 kit sostenibili e avviate attività di sensibilizzazione nelle scuole. In parallelo sono partite iniziative locali di raccorta differenziata avanzata e programmi educativi sul ciclo dei rifiuti e risparmio energetico. Non male. Rimanendo sempre in Umbria nasce Green Zone, una nuova comunità energetica regionale con l'obiettivo di produrre e condividere energia rinnovabile tra cittadini e imprese. Partirà con 50 impianti fotovoltaici da installare su tetti pubblici. La governance sarà partecipata con smart grid e contatori bidirezionali per ottimizzare l'autoconsumo e il bilanciamento dei flussi. E sta prendendo forma anche uno dei progetti più ambiziosi dell'intera transizione energetica globale. Parliamo del NEOM Green Hydrogen Project in Arabia Saudita, ormai all'80% della sua costruzione. La joint venture tra ACWA Power Air Products e NEOM sta realizzando il più grande impianto di idrogeno verde al mondo nella futuristica città di Oxagon. Il progetto prevede un sistema integrato da 4 gigawatt di rinnovabili eolico fotovoltaico e rete di trasmissione su oltre 300 chilometri quadrati. L'obiettivo è produrre entro il 2027 fino a 600 tonnellate al giorno di idrogeno verde sotto forma di ammoniaca, pronto quindi a decarbonizzare trasporti e industria su scala planetaria. Una sfida tecnica di altissimo livello che promette però di abbattere 5 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Dal MIT arriva una possibile svolta per l'elettrificazione dei trasporti pesanti. È stata sviluppata una nuova cella a combustibile sodio-aria capace di superare e di molto le prestazioni delle attuali batterie a litio. Il cuore di questa tecnologia è un sistema elettrochimico che combina sodio metallico liquido e ossigeno atmosferico raggiungendo una densità energetica, pensate, fino a 1540 wattora al chilogrammo. Quindi potremmo avere una batteria da 500 chilogrammi, che sono come quelle che abbiamo più o meno oggi nelle auto di fascia media, da 1540 wattora al chilogrammo. Stica! Pensate che questa struttura ricorda davvero una batteria ma funziona in realtà come una vera e propria cella combustibile. Niente ricariche complesse, basta fare il pieno di nuovo carburante. Tutte le configurazioni testate, una verticale e una orizzontale, sono capaci di generare energia con efficienza sorprendente. Quindi il potenziale è veramente enorme, soprattutto in settori come l'aviazione elettrica, dove leggerezza ed energia sono tutto. Ma attenzione, il sodio è altamente reattivo e la sicurezza quindi è ancora in realtà una sfida cruciale. Il design del prototipo però riduce i rischi grazie a una gestione intelligente dei flussi di ossigeno. Quindi vedremo come si evolverà anche questa tecnologia. Veniamo ora a Meta, che punta sul nucleare per alimentare i suoi data center sempre più affamati di energia. In collaborazione con Constellation, il Colosso Tech sosterrà la centrale di Clinton in Illinois, garantendo le operatività per altri 20 anni. L'impianto, entrato in funzione nell'87 e destinato alla chiusura nel 2017, era stato salvato da un credito di imposta statale. Ora, con l'intervento di Meta, si apre una nuova fase, modernizzazione, più 30 MW di potenza e oltre 1000 posti di lavoro assicurati. L'accordo non solo prolunga la vita della centrale, ma rafforza anche la strategia climatica dell'azienda, zero emissioni nette entro il 2030. Tuttavia, chiaramente, intelligenza artificiale che rappresenta la nuova frontiera tecnologica rischia di compromettere questo obiettivo, aumentando i consumi e di conseguenza anche le emissioni. Con questo primo passo nel settore, Meta si affianca a Microsoft e Google nella corsa alle fonti a basse emissioni per sostenere il proprio sviluppo digitale. Un'alleanza insolita, quella tra AI e Atomi, ma che potrebbe diventare la chiave per una transizione energetica davvero sostenibile. Comunque ragazzi, noi vi ringraziamo come sempre per averci seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Stay green, stay clean, drive green, stay clean, per un futuro più sostenibile. Fiumicini, fiumicino. Perché non ti raccogli i capelli direttamente? Eh, perché non pensavo di avere l'accio, invece ce l'avevo. Puoi anche fare tutto il video così, col braccio dietro. Mi vediamo. Azzito. Goodbye my lover, goodbye my friend.